Abbiamo avuto l'onore di ospitare questi gruppi che ci tengo a sottolineare sono venuti qua totalmente senza prendere un centesimo. Questo ha dimostrazione che loro lo fanno per passione, non lo fanno soltanto per passione e non lo fanno per altro. Quest'anno quando abbiamo pensato a questa manifestazione così organizzata di corsa in un mese abbiamo pensato insieme ai cavalieri.